La prima edizione del Salerno Festival è la prima in assoluto che si svolge nel periodo estivo, quindi questa importante novità consentirà ai cori che provengono non solo da tantissime regioni italiane ma anche da altre nazioni europee, per esempio quest'anno ospiteremo il coro che viene dalla Svezia, quindi una formazione bellissima e prestigiosa, di conoscere e di apprezzare il nostro territorio anche in un periodo diverso rispetto a quello consueto. Tantissimi cori che partecipano, tantissime le location, tra l'altro di assoluto valore e prestigio saremo a Salerno, saremo a Napoli, saremo ad Amalfi e saremo per la prima volta in assoluto alla Regia di Caserta che sarà completamente a disposizione delle corali partecipanti al Salerno Festival, quindi davvero un'edizione molto interessante, molto divertente, molto importante, molto scoppiettante, quindi invitiamo tutti i cittadini della nostra regione, non solo, tutti i turisti che sono in visita nel nostro splendido territorio a venire ad ascoltare i nostri cori dell'ottava edizione del Salerno Festival. Presentiamo oggi l'ottava edizione del Salerno Festival, un appuntamento della coralità nazionale e internazionale. Per la prima volta in versione estiva, dopo l'apitudinaria sede e periodo di novembre, quest'anno siamo qua a fine giugno, quattro giorni di concerti che coinvolgeranno Salerno e i suoi posti più belli, dal Teatro Verdi al Duomo e poi andremo anche ad Amalfi, a Napoli e soprattutto alla Regia di Caserta, una giornata speciale in cui canteremo nelle più prestigiose location all'interno della Regia con numerosi cori che arrivano da tutte le regioni d'Italia. Avremo anche due ospiti di eccezione, che sono il coro giovanile italiano, ovvero la nazionale italiana dei giovani cantori, e il coro giovanile svedese, i pari età dalla Svezia. E quindi avremo una qualità molto alta, che avremo modo di ascoltare nelle sue varie forme e nei suoi vari stili in questi giorni a Salerno e in tutta la Regione Campania.